Architetto Alberto Formento, la Formento Restori di Finale Ligure è stata selezionata dal Rotary come azienda per contribuire a questo importante progetto, un vero e proprio simbolo dell'economia albenganese. Com'è stato l'iter? Diciamo che io sono socio del Rotary Clavi di Albenga, quindi ho prestato la mia professionalità e la professionalità della nostra azienda proprio per la realizzazione di questa statua. Quello che mi è stato chiesto all'inizio dal professor Marchese del liceo artistico era quello di riprodurre una superficie che fosse simile alla pietra di Finale, la pietra di Finale è una pietra che oggi non viene più cavata e quindi non c'era più possibilità di reperirla sul mercato. Per cui abbiamo adottato questo tipo di soluzione che prevede, che ha previsto la realizzazione della statua in cemento armato e poi abbiamo lavorato sulla superficie con l'utilizzo di pitture ai silicati che quindi hanno riproposto questa caratteristica della pietra di Finale che come vediamo oggi si sposa molto bene con il colore dell'argella. La piazza è una delle più belle e anche delle più moderne di Albenga, in generale siete soddisfatti del risultato? Sì, diciamo che siamo soddisfatti del risultato perché innanzitutto la piazza è molto grande e quindi la statua che ha una notevole presenza fisica anche diciamo che si integra molto bene in questa statua e quindi probabilmente nel centro storico sarebbe stato un po' più mascherato da tutti i palazzi, da tutto il contorno. Invece in questa piazza diciamo che esalta molto di più la sua plasticità.